Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, dopo di questo nuovo video, oggi ci troviamo in cucina mia perché oggi facciamo il panettone. Allora, facciamo il panettone con la classico, quello là, normale, a forma di albero di Natale. Ho l'alleggio di albero di Natale, però così lo giriamo e lo mettiamo qua. Allora, prima cosa ragazzi, oggi è 24 dicembre, buongiorno a tutti, poi dobbiamo iniziare un dopo di Natale. Allora, il mio aggeggio, lo scrivo tutti i miei aggeggi, quando lo scrivo tutto e visto che io mi dimentico molto facilmente le cose, quindi io finisco a scritto. Quindi, qui, se l'altro c'è la penna, c'è scritto la penna, però io ti ho pregato tutto, però dal caso di un mio aggeggio qualcosa, faccio questo. Quindi, mi metto la penna, l'ho pregato, prepariamoci. Adattata. Se non vedo la scelta, spero che non bussa nessuno, perché scoccia. Allora, prima cosa, quattro uova. Quindi, stiamo a rompere le uova, se no qua. Allora, vediamo un po' perché facciamo, ah, però voglio farmi vedere un po' solo. Aspetta, vediamo. Sto faccio. Allora, prima, c'ho io quattro uova. Zucchero, sto qua dentro. Già preparato un bicchiere di latte, bicchiere di olio. Poi, la farina, ce l'ho preparata. Se tutto, purtroppo non mi trovo a, come si chiama, a cucinare, perché non è più zucchero a vela che servirà per il finale. Poi, il dito per farlo crescere, una cucina di bello, non è più farlo normale. Poi, iniziamo. Un uovo ce l'abbiamo. Ti va a capire, sapete, io non sono un bravo cucinale. Da, anche, faccio questo perché è un paletto di scio. Perchè, io non sono un po' più male. La facciamo con un'altra, più videocamere, così vedi in lingua, che faccio? Allora, se mi stai a riccare di un pezzo qua, di un po' 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 di un po'. E tu? Secondo me, questo palettino è un filo, va a varie. E siamo qua. Siamo avuta l'attima questo, proprio a lui, in inguaggio. all'interno sarebbe che conviene un disastro prima che cade tutto iniziamo a mettere bicchiere di latte bicchiere di olio ecco ho tre di micro e l'altra volta ce ne mette i 4 però era troppo ok 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 poi quattro di farina ok 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.